Io non ho cambiato la mia posizione, a meno che non vengano resi pubblici i dati. Non dubito che tutto quanto verrà fatto con la buona fede e con ricore. Comunque è stato di fatto che il difetto è nella procedura affrettata. Si ricorda Gilead e il Rendezzi che è stato approvato, è un farmaco che ha degli importanti effetti collaterali. Poi adesso si scopre che non va bene e che adesso tutta la procedura di approvazione è in revisione. Di queste cose bisogna rendersene conto. Ci sono delle procedure che sono accelerate e che hanno intrinsicamente dei rischi. Non lo dicono tutti. È solo questo che è un paese provinciale e che si pensa che se uno emette una frase che può chiedere soltanto trasparenza si scadena un putiferio. Ma il putiferio si dovrebbe scaderare, mi scusi, sul fatto che abbiamo 15.000 morti.